Buonasera a tutti, io sono Rosy di Parrucchieri Revolution e mi occupo di salute e bellezza del tuo capello. Oggi parliamo di un problema comune e davvero fastidioso. Parleremo del perché il tuo colore dei capelli diventa sempre più scuro nel tempo. Ti è mai capitato di essere un castano chiaro e pian piano a furia di fare il colore, il tuo capello diventa più scuro, si spegne, non è più quello che avevi chiesto all'inizio, è un colore più scuro rispetto a quello di sei mesi fa? Non è frustrante questa cosa? Non ti crea fastidio? Se ti guardi allo specchio vedi che i tuoi capelli diventano sempre più cupi, privi di brillantezza, diversi, diversi da quello che è, quello che ti piace. Questa situazione tu lo sai benissimo che può influenzare negativamente la tua autostima facendoti sentire meno sicura di te stessa. Io questo lo dico sempre, se non si è in ordine, se non si guarda allo specchio e nel riflesso non si vede qualcosa che piace, la fiducia in noi stesse scende e così anche la nostra autostima. Ma oggi voglio dirti quali sono le cause. Molti prodotti in commercio usano formule troppo coprinti, che con il tempo si accumulano sul capello rendendo questo effetto copertone. Le motivazioni, i principali problemi del capello che nel tempo ti diventa sempre più scuro, per cui non ti rimane quel colore che avevi all'inizio, quel bel castano chiaro. Tre sono le motivazioni. La maggior parte delle aziende usa colori copertone perché è la richiesta un po' che c'è nel mercato. Ho i capelli bianchi e li voglio coprire al 100% e queste formule sono eccessivamente coprenti e che appesantiscono il colore del tuo capello. Un accumulo di pigmento, queste colorazioni hanno al loro interno tantissimo pigmento che a furia di farlo va a incupire e appesantire il tuo capello. E non parliamo degli ingredienti che ci sono al loro interno aggressivi, dannosi, possono, non dico al 100%, possono danneggiare quello che è la pelle e la struttura del capello. Abbiamo visto diversi casi di persone con problemi sia alla cute ma soprattutto capelli veramente devastati da colori troppo aggressivi. Ma ti rassicuro che c'è la soluzione, c'è la soluzione perché noi della Revolution ti offriamo un colore naturale, un colore chiaramente che ti va a coprire il capello bianco ma in maniera naturale, privo di tutte queste sostanze dannose, organico certificato che ti darà un aspetto dei tuoi capelli brillante, lucido nel tempo. Anche quando schiarisce non diventa cupo ma rimane comunque un colore brillante nel tempo. Quindi non aspettare oltre, se anche tu hai notato che il tuo capello nel tempo oppure di fare il colore diventa sempre più scuro, contattaci. Noi faremo salire la tua autostima e la fiducia in te stessa proponendoti un colore organico certificato che non danneggia assolutamente né pelle né il capello ma ti darà un aspetto più sano, più brillante che dura nel tempo e la fiducia in te stessa e la tua autostima risale. Mi raccomando contattaci 0371 89 89 00 oppure 340 99 73 923. Ti aspettiamo a non perdere altro tempo. Ciao!